Mister buongiorno, giovedì ha fatto le prove generali qua, non so fino a che punto erano prove comunque non è il caso ho visto che ha giocato con la difesa a tre, cosa che aveva fatto anche a Genova in altre occasioni soprattutto contro formazioni che dal loro canto giocano con i due, con i quinti allora le chiedo, era una prova vera giocare a tre contro il Bologna, contro una squadra che ha un finto centravanti tre quartisti che si muovono in continuazione oppure pensa di giocare a quattro come ha fatto nella maggior parte delle gare di questa stagione già la tua osservazione di per sé ti fa capire che il sistema di gioco del Bologna non è ben definito ma è molto dinamico, è più un'occupazione degli spazi che diciamo un sistema di gioco sviluppano a tre, sviluppano a quattro, alzano un centrale, stanno facendo un campionato straordinario grazie secondo me a una squadra costruita con criterio, al grande lavoro dell'allenatore insieme generale è una squadra difficile che va un po' al di là del sistema di gioco io penso che cerco di mettere in campo più gli interpreti giusti per poter affrontare e cercare poi di far male a una squadra che ha uno dei migliori palleggi del campionato italiano e la capacità di portare tanti uomini nell'area di rigore avversaria è una partita che va al di là del sistema di gioco, ho fatto delle prove giovedì ovviamente rispetto a giovedì non ho messo tutto in campo quello che avrei voluto far vedere per tanti motivi, ci sarà sì qualche cambiamento ma in linea generale cerco di dare alla squadra, vorrei cercare di dare alla squadra un po' di continuità al di là di quella che sarà un po' la formazione domani che poi sarà sorpreso meno per quello mi soffermerei molto meno sul sistema visto che abbiamo parlato tanto di atteggiamento difensivo, di attenzione di capacità di stare sempre in partita che credono che siano le cose più importanti nell'affrontare questo Bologna Giuliani Buonaneriggio Giovanni Giuliani dell'Universo da lei vorrei un piccolo assunto sulla condizione di chi ha recuperato, sta recuperando di chi è acciaccato e poi anche due parole sul caso Iono l'operazione è stata la parte finale di questo problema, forse si è sbagliato con questa terapia conservativa, ora hai due parole anche su questo quando si fa una terapia conservativa a volte si ha un successo, a volte no però le scelte vanno anche condivise con chi è del mestiere io non sono un dottore e anche col calciatore nel senso che la scelta di fare questa conservativa non ha portato sì dei vantaggi in tante altre occasioni ha dato dei benefici se l'avessero saputo prima magari si sarebbe pensato in maniera diversa però succede, capita, l'importante è che Anthony vada a mettersi a posto questo piede che è veramente stato un martirio per questa stagione e ci ha creato dei problemi anche perché era uno di quei giovani, di quei ragazzi che si era messo veramente, che stava facendo veramente bene nel primo periodo del campionato poi detto io, noi abbiamo fuori sicuramente per questa partita a Gelli e a lui che credo di poter recuperare la settimana prossima e Monterisi che ha un piccolo problemino, non sarà a disposizione mentre sono riuscito a recuperare Lirola che come avete visto l'ultimo giorno si è allenato si è allenato oggi non tutto ma una parte con la squadra ce l'abbiamo a disposizione, questo è importante e Marchizza che sarà convocato nonostante si sta allenando poco in campo con noi però mi piace averlo all'interno del gruppo perché è un ragazzo positivo, costruttivo perché lo sarà tra i convocati mi dicevi scusami? Ah Brescianini si è recuperato oggi si è allenato con la squadra per la prima volta per quello devo dire che è principalmente a disposizione della squadra poi deciderò domani chi scenderà in campo insomma domani stanotte perché come sempre giochiamo presto domani Caio è pure convocato, sì anche lui sono quei giocatori che non avete visto giovedì che però sono rientrati con la squadra tutti quanti tra ieri ed oggi nell'allenamento di questa mattina è convocato anche lui Roberto Bonforti, TFM Radio buon pomeriggio mister cita a memoria, ultime nove partite il Bologna fa otto vittorie, una sola sconfitta con l'Inter una squadra che sta giocando bene, che esprime un buon calcio che merita la posizione e magari merita anche la Champions sarebbe una bella realtà, una bella sorpresa in positivo per il calcio italiano statisticamente le serie hanno un inizio e una fine ossia prima o poi il Bologna deve avere qualche problema anche statisticamente parlando ecco come il Frosinone può aiutare la statistica è quella la chiave di lettura reale di una partita che diventa fondamentale anche perché non ultimo il pareggio 2-2 tra Saletane e Sassolo le altre come noi non è che corrono a velocità spropriestata per cui continua ad essere sempre tutto aperto ma diminuiscono le partite sì, diminuiscono le partite diminuisce secondo me la quota salvezza cosa che è successo anche negli anni passati può succedere devo dire che sì, cercheremo di aiutare la statistica ce la metteremo tutta ovviamente è una partita da prendere veramente con le molle bisogna essere attenti in tutto quello che andiamo a fare avere grande equilibrio all'interno di questa gara sapendo che si può fare risultato anche nei minuti finali noi nell'ultima gara credo che abbiamo messo in campo un equilibrio di squadre importanti in un campo non facile, difficile e deve essere un po' dare continuità a questo tipo di atteggiamento di grande attenzione, di grande applicazione cercando di tornare sempre quei piccoli errori che spesso paghiamo più del dovuto rispetto a quello che concediamo anche ultimamente paradossalmente mi sembra che la squadra conceda meno dell'andata in certi momenti della gara però subisce con più facilità per quello dobbiamo abbattere e abbassare questa pericolosità degli avversari specialmente contro Bologna che sta in grandi condizioni per poter portare a casa un risultato positivo che per noi sarebbe molto importante Biaggi Biaggi il messaggero, mister vado un po' al di fuori dal tema della partita di domani volevo girarle più che una domanda che poi avrebbe una risposta scontata una considerazione questo è il momento, questa fase qui degli appelli alla compattezza dell'ambiente, al stare tutti vicino alla squadra, ai giocatori, al gruppo io le domando la storia del calcio, degli sport di squadra dello sport in generale è fatta di miracoli sportivi dettati anche dalle critiche a volte anche sopra le righe come ad esempio gli ultimi eventi sportivi calcistici dell'Italia i mondiali dell'82 e del 2006 c'è stata una reazione del gruppo a quelle critiche, molte delle quali anche ingiustificate che hanno portato a un miracolo sportivo la squadra era anche oggettivamente a di sotto delle avversarie ecco le dico a volte anche un po' di sana critica non può essere quello strumento che consente allo stesso giocatore di dare quel quid in più a livello di reazione emotiva e poi ottenere il risultato che tutti quanti naturalmente auspichiamo il fine a volte può giustificare i mezzi no no ma guarda la critica parte da un presupposto la critica è costruttiva la premeditata e tante altre situazioni che non hanno senso io credo che la critica faccia il contrario faccia molto bene se fatta in maniera costruttiva e che abbia un senso e che abbia secondo me alla fonte dei numeri delle verità non tanto per essere fatta io dico sempre a volte dico il discorso da bar il calcio è bello anche per questo ci sono quei discorsi ci sono quelle critiche quelle cose buttate lì ma fa parte del gioco e noi lo sappiamo noi dobbiamo essere bravi a scegliere le critiche giuste per poter poi andare a migliorarsi io credo che la squadra lo stia facendo lo sto facendo io stiamo cercando di andare a cercare di migliorare quelle che sono state quelle critiche che alla lunga devo dire che sono state tante costruttive e giuste per quello che è il cammino di una squadra per quello mi auguro tornando al concetto di miracolo che arrivi in questo senso qua anche per noi tornando al concetto di compattezza giovedì è venuto è venuto una curva straordinaria a sostenerci io credo che loro vogliano quello che noi vogliamo per quello insieme siamo ancora più forti è un po' l'esempio che ho portato ai ragazzi prima della partita di Geno provate a prendere un pugno se noi togliamo questo l'indice o togliamo anche il mignolo non avremo la stessa forza di combattere insieme ottenere un oggetto forte insieme e allora tutto quello che ci unisce dove possiamo andare a trovare forza per lottare fino alla fine noi ci dobbiamo attaccare però se disperdiamo due dita facciamo fatica ad arrivare insieme all'obiettivo e allora tutti quanti insieme compreso la gente che ci è venuta a sostenere sono convinto che lo farà ci potremo togliere grandi soddisfazioni fino alla fine cercare di lottare per poter mantenere questa categoria Martini mister buon pomeriggio è vero che il reparto arretrato ha avuto spesso degli infortuni che l'hanno costretta insomma delle scelte obbligate però nel andando a guardare un po' di numeri Ocoli è stato il giocatore che lei ha sempre mandato in campo tranne quando era squalificato dei centrali difensivi parlo quindi le volevo chiedere quali sono le caratteristiche di Ocoli che la portano sempre a sceglierlo di mandarlo in campo diciamo rispetto magari a altri calciatori a volte alternato Romagnoli Monterisi insomma perché Ocoli c'è sempre questa ma innanzitutto c'è stato sempre anche perché non ha avuto grandi alternative al dià di questo io lo ritengo un ottimo calciatore è ovvio che ha giovane che era all'Atalanta è venuto qui a Fosinone per tra virgolette continuare la sua sperienza in Serie A e andare a migliorare quelli che sono i suoi pregi i suoi difetti io credo che debba migliorare nell'attenzione però è un giocatore che qualitativamente fisicamente è uno dei più forti che noi abbiamo dal punto di vista della capacità di coprire campo noi siamo una squadra che spesso gioca alta dove deve migliorare il tipo portiamo un esempio il rigore che è successo domenica la fase di temporeggiamento la capacità di leggere certe situazioni e di avere meno frenesia di voler prendere la palla io dico sempre che il difensore più bravo è quello che sia delle qualità ma che ha un'attenzione altissima e sono quei giocatori che secondo me mantengono la categoria ad altissimi livelli nonostante magari non abbiano un gran fisico e lui invece ha tante qualità deve migliorare dal punto di vista tattico nelle scelte che va a fare però devo dire che lo ritengo un giocatore con dei mezzi importanti è normale che deve sempre come giorno dopo giorno non sentirsi arrivato e mantenere l'attenzione non alta altissima specialmente lui Campioni Buon pomeriggio mister prima ha fatto riferimento all'allenamento a porta aperte di giovedì e allora gli chiedo che cosa ha visto rientrano negli spogliatoi negli occhi dei suoi ragazzi se hanno dato qualcosa di particolare com'era lo spogliatoio dopo questo avvenimento fondamentalmente era il primo allenamento a porta aperte di quest'anno è stato tutto molto bello però vi assicuro che quando tu ti alleni a porta aperte i ragazzi manco mi sentivano quando gli spiegavo le cose tecnico-tattiche per quello dal punto di vista dell'allenatore ho avuto delle difficoltà però ho visto una grande voglia loro di stare di accontentare le gente di essere vicini che ne so sulle sbagliava un gol si dispiaceva in allenamento per far capire come ci tenevano anche a far bella figura con loro e a condividere questo momento assieme li vedo convinti vogliosi di voler fare quello che le hanno chiesto quelli della curva ma poi sai ci sono sempre risultati che determinano tutti i discorsi che noi facciamo qui dentro però c'è grande volontà c'è grande voglia di far bene e di condividere queste gioie insieme alla gente di Frosinofri Iacobelli misterio Alessandro Iacobelli di G24.info nella partita contro il Genoa Ranier è tornato intanto al gol e anche ha offerto un'ottima prestazione come forse non si vedeva da tempo da parte sua ecco rivedremo il brasiliano anche contro il Bologna domani sicuramente sì immagino di sì o all'inizio o nel corso del match e hai fatto tutto e se da lui chiaramente pretende pretenderà le stesse funzioni magari viste anche contro il Genoa di inserimento in fase offensiva magari con gol e anche di copertura in fase di non processo guarda non è Rainier è tutta la squadra esistono due fasi nel calcio è molto semplice offensiva e difensiva punto si fa al 100% l'una e l'altra poi è normale che ci sono delle caratteristiche dei giocatori che sono più predisposti a una fase offensiva io ho fatto il calciatore sicuramente correre in avanti mi piaceva tantissimo fa sempre fatica un po' correre all'indietro faticare all'indietro paradossalmente notate ci sono dei giocatori che li vedete che vanno in avanti chiudono l'azione e chiudono l'azione sembrano morti per rientrare riprendono la palla è come se le avesse punti capito un'ape e ripartono forte per cui vi fa capire che nella mentalità dei giocatori vanno allenate queste cose tantissimo Renner è un brasiliano che ha qualità tecniche all'istinto del gioco della bellezza del gioco ma deve imparare che per poter diventare e fare il salto di qualità visto che è così giovane deve abbinare le due fasi nello stesso modo al di là come hai detto tu se giocherà dall'inizio o se dovesse entrare a partita in corso ultimo a Biaggi Simis solo per chiudere il cerchio ci parli un po' di questo Bologna un po' più approfonditamente quali sono i giocatori che teme di più le caratteristiche e come il flusinone può prenderlo per fare eventualmente male ma se io dovessi parlare dei giocatori buoni il giocatore che mi ha impressionato più di tutti è stato Calafiori a seguire ci metto Zirke perché secondo me è un centravanti atipico che se ne trovano pochi che ha delle caratteristiche veramente importanti che riesce a abbinare sa giocare in tutte le zone del campo e spesso te lo vedi in fase difensiva ricoprare un pallone e fare ripartire un'azione ha questa capacità di muoversi in maniera veramente sia elegante ma anche sia raffinata tecnicamente ma anche di fisicità con centravanti completo Calafiori ribadisco per l'ennesima volta che io siccome l'ho avuto a Roma quando si era infortunato e l'ho visto solo in palestra è un ragazzo che mi ha impressionato per quello che sta mostrando quest'anno per la fisicità la tecnica la capacità di gestione della palla perché lo metto davanti Calafiori a seguire Zirke poi c'è Orso che è un ragazzo che è molto amico anche di mio figlio gli ho detto a mio figlio di chiamarlo di far il bravo non sto scherzando è una battuta però lo conosco bene è un giocatore secondo me che ha grandi mezzi può fare ancora di più di quello che sta facendo dal mio punto di vista detto questo basta i complimenti agli altri ma pensiamo poi ai nostri e cerchiamo di avere la capacità di pensare di fare alla grande sotto tutti i punti di vista prima di tutto come atteggiamento che è la cosa più importante in questione di fare alla prossima Grazie a tutti